Intorno alle 11 di questa mattina, solo a Rolo, a pochi metri dalla chiesa di San Marco, una donna dell'84 di Conselice ha perso il controllo dell'auto, una Nissan Qascai, ed è finita fuoristrada. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza, un'auto medicalizzata, i vigili del fuoco e l'elissoccorso da Bologna. La donna è stata trasportata al bufalino di Cesena.